Buongiorno a Dynamo, oggi voglio proporrevi una rivoluzione del libro di Gettin Start con Warhammer Age of Sigmar. Sincertamente, ho trovato questo libro molto interessante e ho comprato questo, principalmente perché c'è questa miniatura, sulle Stormcast, che ho trovato molto interessante e che ho chiesto di prendere per la mia Stormcast Armee, un armee che vi farò in questo canale. Sincertamente, sto facendo molti progetti e non ho il tempo per costruire come voglio questo progetto, cioè l'armee dei Stormcast. Ma comunque, ve lo farò in questo modo. Inoltre, ora possiamo iniziare a vedere questo libro. Possiamo trovare l'introduzione che viene in ogni libro su Warhammer Age of Sigmar. Questi sono i temi principali dentro di questo libro, che sono collezionati, stagionati, stagionati e stagionati. Poi possiamo iniziare a vedere i contenuti dentro di questo libro. e qui vediamo come costruire il miniatura che è dentro qui. Un miniatura che, se vuoi, vi farò come modificato e magnetizzato, perché questo modello può essere davvero convertito, e le cose che vengono dentro ci sono molte parti interessanti che puoi applicare. Quindi, se vuoi, vi farò come modificato. Poi possiamo sviluppare e vedere cosa è un'immagine della prima box dell'Age of Sigmar setbox. Questo è l'ordine di battle contro il caos, principalmente Stormcast contro il corno. Quindi è abbastanza interessante. Poi possiamo sviluppare e trovare l'immagine di Sol Wars, che è il secondo setbox di Warhammer Age of Sigmar. E se vuoi, possiamo trovare il link del unboxing di questo setbox nel link qui, o nella descrizione. Poi possiamo trovare la descrizione delle grandi allergie con alcuni dei principali allergici, o meglio, alcuni dei allergici che hanno le principali allergici in questi 10 allergici. Abbiamo il Stomach Castetanas, il First Slay, i Caratrons, i Silvanets, i Serafoni, e ci sono. Abbiamo il caos, con i diversi big factions che sono dentro. Non mi missa il beast, ma comunque sono le principali. i morti, poi la distruzione. Quindi abbiamo il principale uno. Poi possiamo trovare la parte del collezionamento del Citadel Miniatus. E possiamo trovare esempi di alcuni delle armi. Per esempio, per l'Order c'è il Stormcast Eternals, per la morta c'è il Nighthound, l'Enargo per il Chaos. Quindi ci sono molti diversi tipi di armi. E qui possiamo trovare come giocare il giro. Quindi, possiamo trovare un rapporto di battaglia, che è stato rappresentato da questo battaglia. Queste sono le descrizioni delle diverse uniti dentro. e poi c'è un rapporto completo, come quello che puoi trovare sul Wild Earth. Un compatto, questo, perché non è così accurato come quello. Ma in ogni modo, è davvero molto interessante leggere per qualcuno che vuole capire come giocare questo gioco. Quindi, è davvero molto interessante in questo modo. Quindi, suggerisco a voi, se siete interessati, di capire come giocare senza acquistare un Wild Earth che sia meno concentrato per iniziare il gioco. E qui c'è un spazio di diverse boxe che hanno minuti su come iniziare il gioco. Qui c'è come comprare per iniziare, per esempio, un Stormcast Eternals, e qui un Armi Nighthound. E qui c'è il SETBOX. SETBOX e SETBOX che suggerisco a voi di pensare a comprare. Perché, usando una soluzione di SETBOX, puoi essere davvero più cari in quello che puoi. E, più oltre, se puoi trovare un discount su queste SETBOX, suggerisco a voi di considerarli. Ovviamente, dovete capire se queste SETBOX sono utili per quello che vuoi comprare. Ma, realizzate, quali sono i contenuti, perché possono farvi essere molto più cari nel costruire le armiste, almeno le strutture principali. Quindi, prendete una buona notte sulle. Suggerisco che prendete una notte sulle. Poi possiamo avere una descrizione minimale e una descrizione sulle caratteristiche e le caratteristiche di queste rieme. Quindi, è molto interessante. Poi, abbiamo la scelta dei mini-tools che puoi creare sulle diverse parti che puoi trovare, con alcuni esempi sulle caratteristiche. E poi, possiamo trovare come dipendere. Qui c'è un guida abbastanza buona. Qui c'è le strutture per prendere le spruzze le parti dei mini-tools e così via. Quindi, è davvero molto interessante. Qui c'è un guida sulle caratteristiche che puoi trovare sulle caratteristiche. L'esplanazione di come usare le pennellate e quali sono le principali cose le principali key words usate nella caratteristiche quindi è molto interessante. Ci sono diversi passaggi che puoi trovare. Per esempio, l'undercoating 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 quindi per qualcuno che vuole iniziare a vedere come le cose sono fatte credo che è un buon modo di iniziare a vedere le parti diverse perché qui ci puoi capire come l'esplanamento è un'introduzione non una completa suggerisco un centro hobby che puoi capire come realizzare modi ma in ogni modo è molto interessante perché ci puoi capire la base della pittura e realizzare un mod completo quindi penso che sia abbastanza buono anche questa parte che fa vedere i passaggi come possono evolvere modi da una parte finale che è più attrativa e più buono per vedere come è interessante vedere e voglio capire capire semplicemente la pittura è semplicemente se semplicemente un effetto di avere l'armi painted e non solo grig o base color che vedete con plastica che vediamo le regole e voglio ricordare che queste regole vedete per free se utilizzate l'app che sono disponibili per Android e iOS quindi non devi pagare e comprare questi o i manuali per giocare ma avete visto il rapporto del rapporto qui puoi comprare le due cose per capire come è buono perché sono le regole regole iniziare a giocare e anche se le immagini sono diversi ma le regole sono complete quindi suggerisco che prendete note perché potete vedere che se vogliamo giocare queste regole regole quindi è qualcosa che suggerisco leggere e capire il rapporto e se potete essere interessato in questo gioco il triunfo poi anche il tarrense e un battle che è anche nel base ma qui è interessante che sia una base giocare un basico perché se vuoi potete ancora giocare a giocare di giocare giocare per questo modello ma per qualcuno che inizia a giocare è abbastanza interessante più che un white perché qui puoi trovare un battle report non che vorrei come giocare anche la parte di giocare con il quindi suggerisco per gli altri che vogliono giocare, o meglio, di iniziare a giocare, di comprare e di capire quali sono i contenuti dentro di questo game, perché ci sono molte cose, ma comunque credo che sia un buon libro, ovviamente non è buono per alcuni che ancora sapere, perché è qualcosa che non dovrebbe ancora sapere, quindi credo che per il target che è riferito a questo, è valore il money che costa, che è quasi come un white dwarf, e più o meno, hai un miniatur, suggerisco di comprare in questi casi, comunque! From Dynamode, it's everything, I invite you to put a like on this video, to subscribe to the channel, to ring the bell, and to come visit this video if you are interested in something about this video, or you want to suggest me some arguments for other videos. I hope to see you again, till the next time!